Un percorso formativo incentrato sui laboratori con tantissime novità. Grande partecipazione alla primo Open Day delle scuole Pio XII di Sondrio. Gli insegnanti e i dirigenti hanno incontrato le famiglie per presentare, illustrare l'offerta formativa per i bimbi della scuola dell'infanzia, gli alunni delle scuole elementari e gli studenti delle medie. Il mio primo figlio ha fatto un percorso bellissimo e quindi glielo farò fare anche il mio secondo. Sono bambini seguiti, professori molto attenti per ogni esigenza dei bambini. Mi sono trovata bene, è maturato bene il mio bambino. Abbiamo avuto una bellissima esperienza dal nido, siamo passati alla scuola dell'infanzia e adesso vogliamo mandarlo alla scuola primaria. Farà le elementari da settembre dell'anno prossimo, quindi siamo qui a scoprire che cosa può offrire questa scuola al mio bambino. Tante le novità proposte per il prossimo anno scolastico, partiamo dall'inglese. Allora, sull'inglese abbiamo ulteriormente investito, quindi con una grande estensione a livello orario nella scuola elementare, con anche dei momenti, definiamoli non codificati, per esempio un pranzo, mensa e tutto in inglese. Poi la proposta di fare un pomeriggio o due di speaking club, quindi questa conversazione senza argomenti prestabiliti, ma in cui i ragazzini possano muoversi con dimestichezza all'interno della lingua. E poi il numero di ore è decisamente aumentato, nel senso che nel percorso verticale arriviamo a 20 ore, e quindi se noi teniamo conto che alle superiori massimo sono un 15 ore. È previsto per il prossimo anno scolastico il potenziamento della matematica? È l'aggiunta di un'ora praticamente in orario curricolare, con attività non codificate, ma che vadano un po' a sviluppare quelle competenze, che poi sono competenze trasversali, però che hanno la loro origine, il loro fondamento nel pensiero matematico, nel pensiero scientifico. È la scuola che fa vedere la propria quotidianità. I nostri laboratori sono usati tutti i giorni, l'attività dell'inglese potenziato c'è tutti i giorni, e anche per la dislocazione che abbiamo riusciamo a tenere assieme i bambini dal nido fino alla scuola media. Di modo che accompagniamo la crescita dei nostri ragazzi in tutte le fasi.